Allora, non so voi cosa vedrete perché sono letteralmente appiccicata alla porta della location dove si terrà il concerto, poi ci sono i vigili del fuoco che continuano a fare avanti e indietro e qui c'è anche la mortina che non so se vedete perché è tipo illuminata dalla luce del signore. Perché per me abbiamo sbagliato posto. Comunque, noi siamo qua dalle otto e mezzo. Siamo qui dalle otto e mezzo. Vabbè, noi siamo qua dal giorno prima e siamo arrivate molto presto. Il primo momento adesso sono le undici circa e ancora nessuno si è fatto vivo. Ora, non so se perché è domenica perché le inglesi non sono abituate ad accamparsi perché non ci si può accampare qua e forse noi faremo. Tutto questo per nulla ma ci stiamo preoccupando. Non dire così se no, io ho avuto questo per nulla, fede. No, vabbè, comunque, no, ci stiamo preoccupando nel senso, cioè, non è normale che la gente non si preoccupi di non accamparsi, cioè, noi in Italia... Desculpa, perché nel vlog parli un sacco, poi più non parli un cazzo. Perché nel vlog devo parlare, non vieni? Allora, sì, ma c'è il mio bounty, là. Qua è il locale. Qui c'è la Marti, con il suo sacchettino. E questo ve lo rifaccio vedere adesso. Questo dovrebbe essere il 18 febbraio. Cioè, guardate tutte le date. Qua passiamo dal 26 al 22. Esatto. Però sul sito, sui social, c'è, quindi... Non abbiamo sbagliato. Dai, Smedia. Ma non è vero. Sono loro che non sono abituati. Noi ste cose in Italia le facciamo. Ah, mi tiro dentro. Dai, voglio poterla vedere dentro, aspetta. Se riesco. Vediamo. Comunque ci sono due scalini. Tipo, l'entrata. No, comunque sì, cioè, non so qua come prendono gli accampamenti, ma... Adesso no. Io capisco che... Dici... Io ho qualche disturbo mentale. Però, cioè, adesso passiamo dall'estremo all'altro. Ti puoi venire alle... Alle 4 da far fare. Adesso, non ti ho detto che avete il concetto. Comunque noi, per precauzione, ci siamo già segnate. Un po' malate, eh. Ora gente che dice è piccolo di accamparsi, non ce l'è bisogno, eh. Vedete? Appunto perché è piccolo. Stessa cosa comunque non serve a niente, ma c'è un casino rivolto tutta lontra, ti dico. Ecco. Comunque questo è il viale. Noi avremo questa visuale per non so quante ore. Più di 30. Allora. Appese della giornata. Siamo letteralmente in strada. Cioè, questa è la nostra situazione. E... Siamo solo noi. Ma io mi chiedo, no? Cioè, aspetta. Guardate, di qua non c'è nessuno. Dall'altra parte c'è questa strada, la parte del locale, e lì non c'è fila. e dopo di me non c'è nessuno. Adesso io mi chiedo, se c'è qualche inglese tra di voi, non che stiamo, qualcuno che ha costruito l'Inghilterra. Mi chiedo. Ma sono fatte le pile. Ma le fatte... Sapete cosa... Le fatte le pile. Sapete... Le fatte le pile. Esatto. Perché... Noi pensiamo, dai, arriveranno verso le... Le 10 del mattino. E poi sono le tipo le 12. Vabbè, che verano da un pranzo, sai, ma... Le 2. Le 3. Le 4. Adesso sono le 5 quasi. E' vero che il giorno prima, però... Cioè, in Italia si fanno anche due giorni prima. Cioè, no, li volevano. Però... Han detto... Eh, torniamo la sera. Io le dico, guarda... A me... Io non prego niente. Te le posso dare. Però ovviamente... Poi altre persone vengono. C'è nessuno. E... E... Vengono prima di te. Le do loro. Ah, no, no, vai tranquilla. Allora, va bene. Ci vediamo stasera. Mo' voglio vedere se vengono stasera. Sì, esatto. Vorrei avere la stessa... Le loro tante di campi. Cioè, ragazzi, io le quattro e mezzo del mattino mi sono alzata a riveglia. Avevo l'ansia. Non volevo alzare a prepararmi, ma dopo... Anzi, noi eravamo qua dalle otto e mezzo del mattino ed era già tardi perché abbiamo usato un soggetto. Già, mi sono un soggetto. Non ci sarebbe un po' di noi di un po' di un po' di di un'annull script e poi si sa ancora l'è di un po' di mostrano di un po' di cenere di�렁 per l'idea. Tanto, comunque, l'incurado ce l'abbichiamo di Buone perché, allora, Tanto comunque l'incolata ce la becchiamo, perché non è possibile, è così facile e calma, non è possibile, quindi un po' domani mattina arriva. In massa? In massa e non ci pare, ma l'altro. Quindi niente, i cuorini? Cioè se sono i nostri non li prendono in considerazione, cioè sono quelli che fanno loro da domani. Mi do più a l'arri con le mani perché è anche l'uomo. E niente, pure vengono domani tranquillamente, si metteranno dal tren in poi. Però il tren non è come una nuova. Esatto. Volevo aggiornare questa cosa qua perché è stato abbastanza traumatizzante vedere che nessuno si muove. e il bello è che su Twitter fanno tutte le lemosine per sto biglietto e chi ce l'ha, cioè si dispera dalla felicità ovviamente e fa il conto alla rovescia, ma dove siete? Cioè dove siete? Dove? 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 Ci arrivano l'insulto anche italiano. Io capisco che gli italiani sono pazze. però neanche presentarti a un concerto il giorno stesso. Cioè con quale tranquillità? Oh, siamo troppo così. Dobbiamo andare in terapia. Non lo so, però ormai l'ABC fa la notte. Esatto. Cioè abbiamo iniziato nel 2007 con i toritel, non vedo perché dobbiamo smettere adesso. Anche perché due anni fa, ma perché te li passiamo vicino ai piedi, santa madonna, cioè. Guarda questo, guarda questo, guarda questo. Riprendi, riprendi. Voi non sapete quanti gradi ci sono. No, ma non fa freddo se non fosse per il vento. Esatto. C'è un po' di vento, eh. Però vabbè. Ciao, morti. Dove siete? Dove? Cioè... Non sanno vivere. Ma no, ma vuoi mettere il bello di accamparti? Oh, a me basta che non vi rompo il cazzo con il numero mio, poi... Niente, vabbè. Comunque... Li aggiorniamo. Vuoi investire? Cioè, la gente vuole investire io. Vabbè. No, beh. Ciao, amici. Adò. Dimmi con l'ambuliziotto? No. Allora. Buonasera, gente. Sono le sette di sera. Credo sette qualcosa. E abbiamo appena fatto una figura epica. Vuoi spiegare tutto? Guarda, io stavo mangiando. Questi così qua. Abbiamo una bustina qua. Come si chiamano? Ah, tra l'altro abbiamo aperto anche la coperta. Banca. Dentro la busta. Sì. Però abbiamo una coperta qua. Stavamo parlando. Tornamente vedo un vecchietto. Che si avvicina, si abbassa e ci vuole dare delle monete. Sì, ci aveva delle monete in mano. Se vuole mettere questa busta. E io lo fermo e mi faccio subito. No, no, no. Guarda. Tranquillo, stiamo bene. Stiamo aspettando un concerto. Qui tipo sollevato come se... Sì, come... Si, come... Si fossarinato. Sì. I'm so glad. No, no, tranquillo. Stiamo bene. Oh, per male, per male. Ma... Ma così tipo 3-4 volte di alcune persone. Che fate qua? Poi subito dopo c'è stato invece uno in bicicletta. Ti ci ha chiesto. Ah, sicuro l'ho detto cazzo. Però anche qui, eh. Allora ti può... Sta divertendo, eh. No. Siamo solo qua dalle 8 del mattino. No, ma... Siamo qui sopra il sport. Sì, ormai è... Dici che fa gavetta se può mettere sul curriculum. No, no. Tanto io ho una faccia che... Col vento mi stanno... Lacrumando tutti gli occhi. Sì. No, ma il problema... Non è freddo, perché alla fine... Meno male, è il vento. È il vento, sì, no. Perché il freddo, vabbè. Col Milano. No, non è vero che Londra è fredda. Non è vero niente. Cioè, almeno io che sono a Milano... Cioè, per me è identica. No. Ma sto vecchietto cuoretto. Allora è venuto a freddo. Guarda, Fede, siccome vedi che stavolta ci addormentiamo. Stavolta ci addormentiamo qua. Cioè, abbiamo fatto vedere qua. Domani... Facciamo una busta aperta. Secondo me domani... Ci svegliamo Rick. Sì. Adesso, ovviamente, mentre facciamo il vlog, non ci ferma nessuno. Eh, esatto. Perché, esatto. La paghiamo. E dicono... Stiamo fin troppo bene. Cioè, stanno... Sicuramente pensando. Questa stanno... E' nozio. Sì. Però se la mettiamo via, e facciamo un po' quelle... che stiamo tra di noi a parlare, secondo me... Ah, comunque non c'è ancora nessuno. Ma... Ah, sì. 8 di sera. Cioè, 8 di sera. 6 di sera. Sì. Ciao. Non c'è nessuno. Complimenti inglesi. Ah, quest'ora... Ripetiamo. In Italia... Saremmo stati veramente tantissimi. Cioè... Ci sarebbe stata... Mi basta domattina non vivere la mangia perché sennò sblocco io. Esatto. Eh, però stiamo leggendo su Twitter. Tomorrow, tomorrow, tomorrow... Vedremo. Comunque vi aggiorniamo se ci sono altre figure, se ci sono... Se ci viene a trovare qualcuno, non lo so. Magari diventeremo ricche. Svegliamo con le banconote di tutta la busta. Noi, tutto quello che abbiamo speso in questi giorni lo recuperiamo. Sono le 6 del mattino. Allora... Sono le... 6 circa. 6-10. Siamo tornate a casa per la... Terza o quarta volta a rinfrescarci. Questi sono i nostri capelli. Io non ho più mascara. Ho solo le sopracciglia. Queste sono le mie occhiaie che sono peggiorate a vista d'occhio. E intanto la Marti è in bagno a sistemarsi. Questi sono i miei capelli. E ho tipo uno... Due... Tre maglioni addosso. E... Niente. Abbiamo lasciato il pennarello in fila, sperando che facciano le cose per bene. E non i furbi. Però gli inglesi sono abbastanza bravi. Cioè, arrivano. Chiedono il numero. Finito l'auto. Questa è la condizione della Martina. Com'è? Molto fashion. La Martina, tra l'altro, si è presa bene... Si è presa bene a sistemare... A comandare le persone. Non so da quante ore siamo in fila. Cioè, abbiamo battuto il record anche di due anni fa. Vado a sistemarmi. Saluto. Giornamento del vlog. Allora, sono le... Le undici meno un quarto. Chi c'è lì? Sono le undici meno un quarto. Ci hanno appena sistemato. E... Sono quasi appunto le undici della mattina in concerto. Siamo in 35. E siamo in 35. Ma per me è il più simbannato che va a sembrare cattiva. Io... Fondamentalmente... Non sono strazata. Ma no, quando... Quando mi chiedono i numerini... Io ho sentito la... Sì, che bell'uomo che hai. Qua... Cerco il tuo numero. Quasi lo capisco. E' un cazzo. No, però... Le facciamo la parte e via. Abbiamo anche... Tolto un po' di coperte. Il pennarello sempre qui con noi. No, che non scrivi. Che non scrivi più, tra l'altro. C'ha tipo la mia età con sto pennarello, ma vabbè. Oggi ci ha deciso... Ha deciso di mollare. Quando hai il giorno? Il giorno di 1975. Il dagento. Il giorno di 1975. È il penn. Quando hai il giorno? Ah... Lor что, oggi, la manca. Oh, l'aysono. L'aysono. Aggiornamento vlog, sono le 4 e del pomeriggio, va bene, noi siamo tornati a casa, abbiamo ottenuto il braccialetto con il numerino confermato, se riesco a farvelo vedere, eccolo qua. Praticamente qui tu decidi quando accamparti, prendi il numero che ti aspetta quando arrivi e praticamente solo una volta che arriva il bodyguard della band a confermarti il numerino con il braccialetto dove c'è sopra il numero che ti danno loro, puoi andartene a casa, quindi oggi, a che ora erano Marti quando è arrivato il bodyguard? Intorno a mezzogiorno il bodyguard ci ha liberate, perché appunto è arrivato con questi braccialetti, ha detto mettetevi in ordine in fila, in ordine numerico e ce li ha dati, quindi poi abbiamo raccattato le ultime coperte, le ultime cose, abbiamo preso da mangiare, abbiamo mangiato di nuovo il sushi al supermercato, che tra l'altro in Italia, tipo all'esse lunga, i sushi non è che mi fanno impazzire, questo qua è buonissimo, cioè sto andando avanti al sushi, la mia gioia e dopo aver mangiato il sushi ci siamo riposate un'ora e un quarto circa e poi ci siamo preparate, io ho fatto adesso un po', riesco a farvi vedere un po' la base, anche se vabbè le occhiaie ci sono sempre, mi sono tenuta solo il mascara, perché non ci voglio di mettermi ombrette, alla fine è buio il posto, illuminante Fenty, contouring anche se qua non si vede perché c'è la luce, mulac, fondotinta Too Faced, ho messo il primer Farsali, ho dato una decenza di nuovo al mio viso, ho tolto tutte le mille felpe che avevo addosso per la notte, ho tenuto solo questa, che è tipo la maglietta dei bambini di Decathlon con la termica e dopo metto su un altro maglioncino, ma stasera intorno alle 7 meno un quarto, dato che appunto i cancelli apriranno alle 7, mi spoglio di nuovo e mi lascio solo questa, così dentro se fa caldo comunque sto bene, tra l'altro quando eravamo in fila abbiamo letto anche dei tweet di altri fan che appunto devono venire stasera e praticamente scrivevano tipo io non so come faccia la gente a disturbarsi, ad ammazzarsi nell'accampamento per questi concerti piccoli, ma secondo me sono, cioè secondo me ne valgono molto di più quelli piccoli che quelli grandi, cioè che ne so, per farvi un esempio, se dovessi vedere i Guità da San Siro, cioè col cavolo che mi accampo, non mi passerebbe neanche per l'anticamera del cervello, ma così anche per loro, cioè nel senso, no, cioè in tribuna e via, ecco, qui sono strane, hanno uno strano concetto di valore dei concerti, per me più è piccolo, più importante, però vabbè, dettagli, probabilmente vedrete riprese diverse sia col telefono che con la digitale, perché ovviamente la digitale non la posso portare Spero che comunque vi piacciono tutti questi update qua Ah, intanto che ci sono vi faccio vedere anche che ho cambiato le scarpe, perché prima avevo degli hug, adesso ho i mitici mattoni che mi aiuteranno durante il concerto Il pantalone è sempre quello, con sotto altri pantaloni, leggings e nada, dopo metto anche la tinta labbra, perché così sono, sembro morta, niente, voglio farvi anche un aggiornamento di oggi, questo è il look completo, perché uno specchio così non mi capiterà mai più, ecco, se ce ne avessi uno così in casa penso che tutti i giorni vedrete foto e video outfit, ma non ce l'ho, uffa Sto blaterando, sto cercando di scaricare l'ansia in qualche modo, ma mi sta riuscendo anche male comunque, zatteroni messi, mi sono spogliata, entrerò con un semplice marsupio, sperando che non mi controlli non mi controlli Grazie a tutti Grazie a tutti In aeroporto Tra poco ci dovremmo dividere Volevo farvi una recensione Veloce nel concerto Ma non si può fare Perché sono successe troppe cose Credo che Forse in aeroporto Forse in aeroporto Non ce la si può fare In nessun modo C'è tra questo Il vedo Questo Questo Qui c'era molto più Come si può dire C'era molto più Trasporto in tutti i sensi Tra loro Bellissimo Hola Che faccio? Che fame? Allora la Martina è già andata Siamo rimasti nei tre Affamati Loro In astinenza Dani E niente Stiamo aspettando Che arrivi l'orario Per andare al gate Com'è stata questa esperienza? Bella All'insegna dei tramezzini Abbiamo scoperto La bellezza dei tramezzini È durato troppo poco È durato troppo poco Questo è veramente Dani saluta Grazie a tutti